Musica Operazione della Guardia di Finanza contro i falsi poveri nel Mirino le autocertificazioni presentate per pagare meno tassi universitarie o passare avanti nelle graduatorie controlli partiti a settembre grazie all'appatto anti-evasione con Regione Lazio, Roma Capitale e le Università La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3 e in collaborazione con la Direzione regionale Agenzia delle Entrate del Lazio irregolare il 62% delle dichiarazioni verificate tra cui la studentessa che ha autocertificato un reddito familiare annuo di 19.000 euro nonostante il padre fosse proprietario di una Ferrari ed immobili di valore a Roma 3 si è dimenticata di dichiarare redditi per oltre 70.000 euro non solo repressione ma anche prevenzione in corso è anche una campagna di informazione prevenzione per evitare che le risorse pubbliche finiscano nelle tasche sbagliate diffondendo la cultura della legalità tra i giovani grazie a tutti grazie a tutti